Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma rallentamenti tra Barberino e Calenzano, in A11 in direzione Firenze rallentamenti per materiali dispersi tra Capannori e Alto Pascio. Sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo rallentamenti tra Empoli e Montelupo in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!